Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, episodio numero 18 dei nostri gamberetti Io sono Maullo941 e siamo tornati con questa serie per cercare di portare il più in alto possibile i nostri gamberetti alla conquista del mondo, signori Ci riusciremo o non ci riusciremo? Chi lo sa? Lo vivremo solamente vedendo Lo vedremo solamente vivendo, l'ho detto al contrario, vabbè, super Detto questo, signori, prima di partire il video vi ricordo di iscrivervi al canale Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che è data a questa serie e al canale Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook E tramite appunto i social vi aggiorno su quando escono i video e sulle live che facciamo su questa piattaforma E sulla piattaforma Viola, dove mi trovate anche lì come Maullo941 e potete fare un salto ogni tanto Che qualche volta ritorniamo anche là per fare qualche live Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video Ok, signori, siamo alla partita contro il Trainmare, la squadra inglese-francese che si è in possesso del campionato inglese Allora, trovate tutti i giocatori, va bene, non ce ne frega niente E Mellor dice che il prossimo bonus è importante Ci penseremo, Mellor mio, Melone mio, Melone mio Ci penseremo, e McGree è contento che l'abbiamo fatto giocare l'altra volta Tra l'altro ha segnato il gol del pareggio l'ultima volta Allora, Mellor è tra i titolari, se non sbaglio, no? Sì, Mellor è tra i titolari Quindi giochiamo con i titolari, speriamo di portarci a casa una buona vittoria Vediamo cosa succede contro la squadra francese-inglese, quella che è Che famo? Perdiamo, no Iniziamo malissimo, signori No, dai, perdere 2-1, no Hanno segnato loro all'85, ma che nervi Ma che nervi, dai Ai, 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 ai Dobbiamo un attimino rimetterci in sesto Sì, anche se abbiamo perso la gran funcia Che ci voleva vincere, porca di una miseria Porca di una paletta ambriaca Che ci voleva vincere No, 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 no Non ci siamo riusciti a vincere, va bene Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti La prossima partita si avvicina La prossima partita si avvicina Qua gli allenamenti sono tutti fatti Sì, dai, così Guarda quel Miura Come si allena e prende una bella A Dai Miura Dai Miura la nostra mascotte Miura Che calerà a zero praticamente da qua a due anni Da qua a due anni calerà a zero in una maniera Terribile Va bene Aspettate, è arrivato il Il resoconto finale su Angus Turgate Turgate è un 61 Eh, va bene Ma non lo possiamo prendere per quest'anno Ethan Laird Questo l'avevamo l'anno scorso in Venezia È il nostro Laird Grande Eh, vedi Certe volte ritornano Ehm, Mellor Mellor, Mellor è mio Continua a lavorare per migliorare Perché hai fatto cacare in questa partita L'abbiamo perso Dico Che cazzarola Contro lo Stevenage Contro lo Stevenage Direi di far giocare i titolari Che se sono riposati Sono belli tranquilli Dico Portiamoci a casa Tre punti, signori Non possiamo fare troppe brutte figure Mi raccomando Dai, dai, dai Che ci fiamo contro questi Che non mi ricordo come si chiamano L'ho appena letto Vinciamo 2 a 1 Buono così Gol di Sullivan E gol di Sullivan E Ah, ok Wilding Ok, me l'ha scappato Wilding Ok 2 a 1 Buono così Buono così Buono così Dai, 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 dai Ci portiamo a casa Tre punti importanti Tre punti importanti Tre punti importanti Grazie per avermi rimesso in campo Sì, come dici tu, Gibson Fai tu Non so neanche di che stai a parlare Siamo messi piuttosto maluccio, signori Perché siamo terzi Con 35 partite giocate Il Colchester ne ha uno in meno Ed è a 60 Noi siamo a 62 E insomma Non siamo messi benissimo, signori Non siamo messi benissimo Dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo Continuare a faticare Però Però dai, dai, dai Ci credo, ci credo, signori Ci credo Dai, dai, famo sti allenamenti Forza, forza, forza Dai, così, dai, così Allenati, 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 allenati Allenati Non hanno giocato quelli la partita, no Che sono questi? Contro chi stiamo scendendo in campo in questo momento? Contro il Sautend Il Sautend Io faccio giocare i panchinari, signori È brutto da dire Ma le devo fare giocare i panchinari Così Crescono un poco tutti Se no Mi si offendono pesantemente E non dobbiamo ottenere questo Dai, 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 dai Forza, 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 forza Ma porca Non ci voleva sta sconfitta, signori Sta sconfitta non ci voleva Io devo alternarle le due squadre Perché se no Non concludiamo niente Se no Voi finisce Si incavolano tutti Dai, Simona, Simona, dai Ah, CD Perfetto Va bene così Dai Allora, sono arrivati Arriviamo alla prossima partita Andiamo a vedere cosa ci ha portato il nostro osservatore Dovediché No, lo vediamo prima Ha reso conto squadra di pivavere Ok McGregor Che ci ha portato McGregor Dalla Scozia con furore Allora 55-69 No Zio, sei inguardabile Luis Jack 64 82 64-82 No, sei inguardabile 60-78 sei inguardabile 63-85 sei inguardabile 44-60 sei inguardabile 63-85 sei inguardabile proprio No, dobbiamo trovarli tutti sopra il 60 Sopra il 90 Se con potenziale è quantomeno al 90 Questo mi fa ridere, signori Questo Joshua mi fa troppo ridere Lasciamolo ancora lì Poi abbiamo Rafferty 52-72 No Dolan 51-69 No McFabers 49-67 No 48-68 67-89 67-89 Questo è interessante Cash Cash interessante 67-89 520 A 16 anni Questo ce l'ho portato 75-94 Questo è ancora di più Incaggia, ingaggia Butta dentro Butta dentro Non ricorderò mai Chi abbiamo preso Però va bene Dall'Inghilterra abbiamo Albert Albert Crashford Bah Spikes 66 Prendilo subito Ingaggiato Barrett Un altro portiere Seguiamolo Seguiamolo E si Nash 58-80 No Tu no Rifiutato Signori abbiamo trovato un super portiere Porca miseria Porca miseria Andiamo a vedere un attimino I giovani Abbiamo fatto Abbiamo fatto il turn all'otto Fermi tutti Fermi tutti Abbiamo trovato Allora Seekes E' un 65 Di 16 anni Mamma mia Tanta roba Tanta roba signori Tanta roba si Questo lo vorremmo già portare in prima squadra Stevens no Barclay McNeil Annessy Benjamin Poi abbiamo Moon Che è un 49 Ma c'è un potenziale di 75 94 Buono Ed è un COC E poi abbiamo Cash attaccante destro Che è un 59 C'è un potenziale di 67 89 E Scott Che invece C'è un potenziale di 80 Allora Aspetta un attimo Modifichiamo questi due Facciamoli diventare due veri attaccanti Così Poi valutiamo Se tenerceli O se venderli Attaccanti 70 settimane Tu E anche lui Attaccante Lo facciamo diventare Anche Scott Lo facciamo diventare Un attaccante A pieno regime Così poi vediamo Piano di crescita No Che sta succedendo Indietro Che è successo Perché non mi dava più la cosa Scott A Scott mio Che dobbiamo fare Dai così Mi devi diventare Un attaccante Di quelli seri Attaccante Due settimane Perfetto 54 Vedi di crescere bene così Così allora Mi diventano attaccanti Moon 75 94 Moon È l'idea di diventare Un Un cc Mamma mia Stiamo modificando Tutto quanto Alla squadra Bello così I nostri giovani Stanno diventando Allora Un cc 91 settimane Il tempo Ce l'ha E zio Ok Barret Esterno sinistro Am6 Settano Questa Lo possiamo andare via Ci diamolo Sì ciao McNeigh Ce la teniamo Perché c'è un buon potenziale Cash Non è tutta questa Tutta questa potenza Sinceramente Moon Stai diventando un cc Barret Va bene McNeigh Stai diventando un cc Barclay 73 85 Ma però lasciamo sì Stevens Va bene Anche se Stevens Dovremmo vedere E Nicholas Va bene Mi fate semplicemente vedere Un attimo Come siamo combinati Con gli esterni Destra e sinistra Signori Allora Sulla sinistra Abbiamo Gibson Che ha 23 anni E un 63 Ed Endry Che ha 26 anni Ed è un 64 Quindi sulla destra Siamo messi bene Sulla sinistra Sulla destra Abbiamo Vazela Che ha 18 anni 58 Che è Mellor Che ha 30 anni E un 63 Mi sa che Mellor Potrebbe andare via Molto velocemente Va bene signori Detto questo Ci ragioneremo Andando avanti Con i progetti Detto questo Signori Io vi ringrazio Vi ringrazio per questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggeriti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao Ciao